È stato prorogato di un anno il contratto di solidarietà per i 96 dipendenti dei tre supermercati PAM di Prato. Il rinnovo di questo ammortizzatore sociale, deciso stamani in provincia, evita il licenziamento di 15 persone dichiarate in esubero dall'azienda, 6 in via Ferrucci, altrettante in via Pistoiese e 3 in via Venezia. Tutti e tre i punti vendita cittadini presentano risultati negativi in termini di vendite e di clienti, per cui già dallo scorso anno PAM ha chiesto la riduzione del personale. L'accordo di oggi invece non riguarda il supermercato di Poggio a Caiano, che presenta numeri positivi. I termini del contratto di solidarietà sono gli stessi del precedente, la riduzione dell'orario sarà fino a un massimo del 12%, avrà validità di un anno fino a marzo 2019. Siamo soddisfatti ma abbiamo chiesto di investire in immagine e marketing, affermano Alberto Santini della Filcams CGL e Giuseppe Viviano della FISA Scam CISL, dato che quest'anno la catena festeggia 60 anni di attività, vorremmo parlare di sviluppo e prospettive e non solo di crisi ammortizzatori sociali.